Il cerchio Che cos'è il cerchio? Perché si fa il cerchio? Come funziona il cerchio? Questo è stato sempre forse uno degli argomenti più scottanti fin da quando ho iniziato ed effettivamente vedendo tutti quanti i vari video vecchi mi sono andata un po' a cercare non ho mai effettivamente fatto un vero e proprio video legato proprio al cerchio che cos'è, che perché e per come si fa e effettivamente ha assolutamente senso con la persona che sono e adesso andiamo a vedere perché Dopo aver indagato su come muovere le energie, che cosa fare, come farlo, chi sono gli elementi, eccetera eccetera l'ultimo passo che in realtà mancava prima della realizzazione vera e propria del cerchio era quello di toccare il legame che si ha con le divinità e come chiamare le divinità all'interno del cerchio cosa che non ho fatto perché in realtà è un discorso molto molto ampio che io non vorrei relegare al cerchio quindi quello che vedrete sarà semplicemente una descrizione molto generica di quella che è la chiamata delle divinità anche perché al momento io non sono solita più aprire il cerchio come ero solita fare perché ho cambiato completamente il tipo di pratica che ho quello che andrò infatti a descrivere è la chiamata del cerchio nel senso più diciamo generico e neopagano del caso quindi poi eventualmente troverete un video più in là proprio legato a quelle che sono che cosa sono le divinità, che cosa significa la chiamata delle divinità che cosa significa lavorare con le divinità e non volevo semplicemente connettere questo tema così importante alla funzione del cerchio perché in realtà non li vedo come strettamente collegati ma tornando a noi che cos'è il cerchio e perché lo facciamo il cerchio è uno degli elementi più importanti della pratica pagana, neopagana, wicca, new age eccetera eccetera perché il cerchio è il luogo sacro creato dal praticante dove avviene la magia apriamo il cerchio perché il cerchio non è altro che una bolla che può essere sia vista come bolla protettiva durante un rituale magico sia come bolla contenitiva di energia durante una pratica magica quindi noi effettivamente andiamo ad aprire il cerchio per non solo tutelarci dalle miriade di energie esterne ed interne ma anche proprio come contenitore perché dobbiamo tutelarci? dobbiamo tutelarci perché indipendentemente da quello che noi andiamo a fare soprattutto alle prime armi e ripeto questa è una di quelle cose che veramente poi con il tempo si evolve in maniera propria io per esempio non sono più solita aprire il cerchio quando noi andiamo a praticare e fare determinati tipi di rituali a seconda anche del tipo di pratica che abbiamo abbiamo più o meno bisogno di protezione o comunque anche di filtri energetici con quello che andiamo a fare all'inizio per esempio io ero solita avere molti molti problemi durante l'invocazione degli elementi perché avevo effettivamente difficoltà a gestire tutto quanto l'apporto energetico che arrivava e il cerchio mi aiutava proprio in questo perché avevo a livello empatico molta molta difficoltà a gestire un carico troppo pesante di energie e questo è perché all'inizio ero un po' scansafatiche con tutto quello che era irradicamente la meditazione ed è per questo motivo che vi ho ripetuto più e più volte che le basi sono necessarie per arrivare a un livello di pratica più avanzato quindi tornando a noi quando si apre il cerchio il cerchio si apre di solito quando un praticante più o meno avanzato o meno decide di effettuare un qualsiasi rituale magico per rituale magico io intendo dal semplice incantesimo alla cerimonia più complessa o anche semplicemente alla cerimonia del sabba io personalmente in passato tendevo ad aprire il cerchio quando ero più in solitaria e durante cerimonia all'aperto o cerimonia con cui avevo a che fare con più persone era molto molto raro che io apressi il cerchio in quanto protezione ma quanto più chiamavo le divinità e gli elementi presenti a testimoniare il nostro volere il nostro atto magico, la nostra devozione nei loro confronti prima di un rituale come dico sempre questa è a completa vostra discrezione ci sono persone che aprono sempre il cerchio, persone che non lo aprono mai io personalmente non sono più solida aprirlo semplicemente perché ho una chiamata dello spazio sacro completamente diverso da come ero solita fare un tempo però generalmente ho utilizzato il cerchio soprattutto come protezione e soprattutto come bolla contenitiva dove riuscivo effettivamente a gestire l'apporto energetico in maniera diversa che se avessi praticamente fatto tutto senza inoltre io credo che l'importanza del cerchio sia proprio quella di riuscire a cocreare insieme agli elementi naturali in quanto spiriti della natura e alla presenza divina che è attorno a noi e dentro di noi come ripeto ogni video in modo tale da creare uno spazio sacro lo spazio sacro che può essere temporaneo quindi creare magari un altare al centro di una stanza durante una cerimonia, un rituale o anche all'aperto o può essere un altare fissio come quelli che io di solito vi faccio vedere sono i luoghi di potere dove un praticante di solito celebra o comunque in ogni caso riversa le proprie energie in quel punto specifico la sacralità di un luogo quindi viene diciamo accumulata e viene nutrita dall'energia del praticante in coesione con le divinità, gli elementi e tutte quelle che sono le energie naturali nel tempo è sicuramente un luogo che man mano viene attivato attraverso la pratica, attraverso la dedicazione, attraverso le meditazioni anche semplicemente il pensiero, anche avere un altare lì presente e semplicemente dedicare due minuti alla sera per meditazioni, per radicamento e continuare ad avere una pratica costante in quel luogo ovviamente rende quel luogo un luogo sacro per il praticante stesso questo però ovviamente è molto importante da ricordare che noi non abbiamo bisogno di luoghi specifici noi a differenza del cristianesimo che hanno sicuramente le chiese sicuramente luoghi di culto specifici noi in quanto pagani vediamo la natura stessa come espressione del sacro quindi volendo noi non abbiamo bisogno di altari, non abbiamo bisogno di templi la natura è il nostro tempio lasciamo stare che poi in segno di devozione, in segno di dedicazione verso una divinità o un luogo specifico noi poi andiamo a realizzare dei meravigliosi altari, dei meravigliosi templi ma noi volendo potremmo tranquillamente aprire il cerchio senza bisogno di nessuno strumento semplicemente essendo in natura e tracciando energeticamente quella che è la circonferenza del cerchio stesso quindi noi tracciamo il cerchio in senso protettivo quando per esempio noi andiamo a fare dei rituali di bando, di protezione qualsiasi tipo di rituale magico qualsiasi tipo di incantesimo, qualsiasi tipo di lavoro magico che può essere un sacchettino piuttosto che anche una devozione a una divinità in senso protettivo quando magari lavoriamo con delle energie esterne con cui noi non vogliamo interagire o anche semplicemente come bolla contenitiva perché voi dovete anche immaginare che il cerchio non va tracciato soltanto nella nostra realtà voi dovete immaginare il cerchio come una sfera una sfera protettiva, una bolla protettiva che vi circonda sia nella parte di sopra che nella parte di sotto nella wicca nello specifico c'è il modo di dire come sopra così sotto che in inglese è as above so below e questa frase infatti stressa molto il fatto che noi non soltanto siamo protetti nella nostra realtà ma abbiamo questa bolla protettiva e contenitiva tutto attorno a noi che va sia sopra, quindi che ci contiene sopra che va sia sotto per indicare le altre realtà ed è proprio per questo motivo che noi andiamo a tracciare il cerchio in quanto praticanti di paganesimo, spiritualità della dea eccetera eccetera noi andiamo ad interagire con tante energie diverse e queste energie non sono spesso positive soprattutto quando noi andiamo a fare determinati lavori è possibile che noi attiriamo energie che non vibrano alla stessa nostra maniera e che possono un po' incollarsi addosso però il sovraccarico vibrazionale può portarci a effetti pesanti anche sul nostro corpo fisico per questo motivo, proprio perché noi quando andiamo a praticare quando noi andiamo a connetterci con una divinità quando noi andiamo a fare magia si può dire che noi camminiamo praticamente tra la realtà concreta di tutti i giorni e la realtà spirituale durante le nostre cerimonie qua a Glastonbury mi piace molto pensare che quando andiamo a celebrare la dea noi siamo con un piede in Glastonbury e con un piede in Avalon e siamo tra queste due realtà, tra la realtà reale, la realtà concreta di tutti i giorni e la realtà spirituale di Avalon e così succede con il cerchio nel momento in cui noi andiamo a praticare siamo con un piede nella realtà di tutti i giorni e un piede nella realtà spirituale, magica e il cerchio è proprio quel luogo sacro dove noi possiamo praticare questo atto rituale, questa cerimonia o anche semplicemente devozione alla dea essendo in coesione con questi due aspetti della realtà e quando noi tracciamo il cerchio creiamo una protezione in modo tale che essendo in mezzo a queste due realtà non subiamo né attacchi da energie che non vibrano nello stesso modo nostro né da qualsiasi altro inconveniente esterno quindi abbiamo esplorato l'aspetto di protezione è una protezione, è uno scudo, è una bolla che ci circonda che ci impedisce di avere problemi energetici ma è anche un calderone, è un contenitore di energia ci aiuta non soltanto a sentire l'energia in maniera più profonda perché siamo circondati da questa bolla ma soprattutto ci aiuta anche a lavorare con energie particolarmente intense quindi abbiamo esplorato il perché si apre il cerchio ma quando aprire il cerchio? possiamo aprire il cerchio tutte le volte che vogliamo che sia per un incantesimo, che sia anche semplicemente per una meditazione o che sia anche semplicemente in un momento in cui vogliamo abbracciare e sentire il lato magico che è in noi o anche durante una devozione specifica alla Dea non c'è un vero e proprio schema su quando farlo o quando non farlo come dicevo io per esempio non sono più solita aprire il cerchio da anni ormai perché nella pratica baloniana noi tendiamo a aprire lo spazio sacro in maniera leggermente diversa invocando i vari aspetti della Dea in quanto natura stessa, in quanto espressione del divino stesso e diciamo che non è che noi andiamo a richiamare la Dea da lontano che è lontana e quindi abbiamo bisogno durante il cerchio di farlo e quindi lo facciamo ma è più un entrare nello stato mentale giusto e riconnettersi con la natura e con la fonte della Dea stessa in quello specifico momento nella tradizione baloniana infatti non abbiamo delle invocazioni agli elementi ma abbiamo semplicemente quella che è la chiamata della ruota che noi facciamo sempre prima di qualsiasi rituale o qualsiasi cerimonia stagionale o qualsiasi altro tipo di cerimonia però tutte le volte che io faccio una devozione o tutte le volte che devo fare un momento di purificazione un momento di consacrazione eccetera eccetera è molto raro che io effettivamente apra il cerchio semplicemente faccio del radicamento perché questa è una cosa molto molto importante e poi procedo dopo la purificazione del radicamento con l'atto magico, l'atto rituale sempre in devozione alla Dea sempre chiamando la Dea e sentendo la Dea dentro di me e al di fuori di me quindi voi potete sentirvi liberi di aprire o meno il cerchio quando ve la sentite o quando no non c'è nessuno che vi verrà a dire oh tu avresti dovuto fare questa cosa piuttosto che un'altra perché la pratica è completamente la vostra l'unica cosa che io mi sento di consigliarvi è quando avete bisogno di sentirvi protetti quando avete bisogno di quella sicurezza in più aprite il cerchio sentite proprio la presenza della bolla del cerchio tutto attorno a voi in modo tale da dare una sensazione di protezione e tranquillità ulteriore alla vostra pratica come aprire il cerchio e dove aprire il cerchio può essere aperto in qualsiasi parte io vi faccio per esempio l'esempio di quando ero ancora a casa dei miei e tutte queste cose erano ancora non accettate o meglio in realtà non abbiamo neanche mai avuto una conversazione a riguardo e io ero solita per esempio mettermi in bagno e fare le mie cose quindi in realtà può essere fatto in qualunque spazio, in qualunque luogo ovviamente se potete farlo all'aperto, se potete farlo in un luogo un po' più carino del bagno è sicuramente meglio però questo è per farvi capire che lo si può fare praticamente ovunque la cosa fondamentale e importantissima è che voi siate completamente tranquilli quindi scegliete un momento dell'aggiornato un momento della vostra pratica in cui voi siete tranquilli in cui non avete pensieri in cui non avete preoccupazioni in cui non avete limiti di tempo non mettetevi nelle circostanze in cui avete un impegno e quindi dovete fare le cose di fretta piuttosto che sapete che tuttora qualcuno della vostra famiglia ha bisogno di voi e quindi aprono la camera mentre state facendo cerimonie eccetera eccetera perché è bruttissimo, è veramente orribile distrugge non soltanto l'atmosfera ma poi rimanete proprio con un trauma dentro come se voi fosse stati praticamente bloccati durante una cosa molto molto importante quindi assolutamente trovate un momento in cui sapete che potete farlo senza essere disturbati quindi una volta che voi avete trovato il momento in cui siete tranquilli e non avete problemi le cose principali prima dell'apertura del cerchio vi sto parlando nella maniera generale nella maniera neopagana, wicca, assoluta la cosa che si fa di solito è una semplice scaletta di cose che si ripetono più o meno nella stessa maniera partendo dalla purificazione della persona e la purificazione del luogo cosa molto importante perché come vi dico sempre prima di andare a praticare prima di andare a creare qualsiasi tipo di momento magico è importante riequilibrare le energie sia quelle personali che quelle del luogo in cui stiamo per andare a praticare quindi potete farvi un bagno potete farvi una doccia semplicemente dove visualizzate che dall'acqua che vi bagna fuoriesca proprio tutto quello che è lo stress, la stanchezza la negatività che vi portate attorno durante una giornata in cui magari siete stanchi o siete stressati eccetera eccetera sentite proprio l'acqua che purifica l'acqua che lava via e che porta con sé tutti quelli che sono i residui energetici che non vibrano alla stessa maniera in cui vibrate voi poi potete procedere con la purificazione del luogo utilizzando semplicemente uno stick di incenso questa è una torcia di salvia o anche semplicemente una foglia d'alloro va benissimo per purificare o uno stick di incenso o qualsiasi cosa per esempio a legno di sandalo o qualsiasi cosa che va bene per la purificazione in futuro ho intenzione di fare dei video sulle corrispondenze delle erbe le corrispondenze dei cristalli dedicati a quel tipo specifico quindi troverete un video dedicato a tutte le erbe per la purificazione tutte le erbe per la protezione tutti i cristalli per la protezione tutti i cristalli per la guarigione e questo genere di cose qua ma li vedrete poi in seguito nelle prossime puntate del libro delle ombre quindi una volta che avete purificato l'ambiente di solito è tradizione circolare per la stanza in cui andate ad aprire il cerchio in senso orario mentre quando fate rituali di bando rituali di allontanamento chi volete allontanare ciò che magari vi fa male in senso anti-orario una volta che avete tutto quanto pronto a seconda del tipo di pratica che avete delle cose che siete soliti fare potete tracciare il cerchio ora, questo cerchio può essere o completamente energetico o anche fisico questa è una cosa che è completamente a vostra discrezione potete tracciare il cerchio utilizzando cristalli utilizzando delle candele stando sempre attenti attentissimi a dove mettete le candele perché potete dare fuoco a qualsiasi cosa quindi creare proprio un cerchio di candele o creare un cerchio di cristalli o anche semplicemente utilizzare una corda che diventerebbe poi dopo la vostra corda rituale della circonferenza che preferite in modo tale che potete praticamente posizionarla a terra e utilizzare sempre la stessa corda quella diventerebbe parte proprio dei vostri strumenti rituali se siete all'aperto una cosa molto carina è tracciare il cerchio utilizzando delle pietre oppure utilizzando delle foglie questo secondo me è un modo molto molto carino per utilizzare ciò che la natura ci offre già senza danneggiarla durante la nostra pratica magica di nuovo creare il cerchio dipende anche molto da come voi siete soliti praticare io per esempio ho un altare che va contro il muro quindi posso tranquillamente creare praticamente il mio spazio sacro attorno all'altare oppure ci sono persone che posizionano un altare al centro della stanza e quindi creano il tutto attorno quindi dipende moltissimo anche dalla vostra pratica se avete un altare contro il muro se siete soliti praticare con un mobile contro il muro va bene lo stesso l'importante è che visualizzate creativamente proprio la sfera che ingloba tutto quello che vi circonda una volta che avete posizionato tutti i vostri strumenti tutto quello che vi servirà durante l'apertura del cerchio dipende anche dal tipo di rituale che andate a fare quindi assicuratevi di avere tutto a portata di mano potete cominciare con la vera e propria apertura del cerchio ora ci sono varie tradizioni ovviamente quella più generale vede l'apertura del cerchio camminando torno al cerchio per tre volte potete utilizzare vari tipi di strumenti io per esempio ero solita fare un primo giro con l'incenso un secondo giro con uno strumento che può essere una campana tibetana o il tamburo e un ultimo giro semplicemente con la mia mano o anche con una bacchetta io al tempo non avevo una bacchetta quindi non ero solita fare niente ma potete tranquillamente utilizzare uno strumento del genere per direzionare l'energia quindi noi in questo momento camminiamo per tre volte in senso orario per creare quella che è proprio la circonferenza del cerchio energeticamente quindi noi dirigiamo l'energia questa è la cosa fondamentale dirigiamo l'energia a tutto attorno a quella che è la circonferenza del cerchio per effettivamente creare questa bolla contemporaneamente a quella che è la creazione energetica dobbiamo anche poi dare una forma a questa energia e quindi utilizzare la visualizzazione creativa che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti proprio per visualizzare quella che è la forma del cerchio che noi stiamo andando a creare una volta che siamo soddisfatti e che abbiamo creato quella che è la struttura base energetica andiamo a richiamare quelli che sono i guardiani vengono chiamati così i guardiani degli angoli e quindi gli elementi posizionati ai quattro vertici del nostro cerchio di nuovo a seconda delle tradizioni gli elementi vengono posizionati in maniera differente e in questo caso voi potete posizionare l'altare se non posizionato al centro in qualunque elemento voi preferiate ci sono alcune tradizioni che solitamente posizionano l'altare verso il nord perché è la direzione verso cui si crede tutto va o altre tradizioni che lo posizionano all'est perché all'est è dove sorge il sole quindi a seconda delle tradizioni potete posizionare il vostro altare o comunque dove posizionate tutti quanti gli strumenti dove più preferite io personalmente amo creare dei altari temporanei al centro perché mi dà proprio un senso di ciclicità e vivo meglio anche proprio la questione del cerchio quindi una volta che noi siamo pronti abbiamo creato il nostro luogo sacro abbiamo creato la nostra bolla andiamo a richiamare la presenza degli elementi all'interno del nostro cerchio e anche qui voi potete partire dall'elemento che vi piace di più o comunque l'elemento che sentite più vostro o l'elemento che vi chiama di più e a seconda anche del rituale che stiamo andando a fare in quel momento l'elemento che più risuona con quel momento specifico per esempio nella cerimonia di domenica noi parteremo dall'acqua perché l'acqua è l'elemento legato all'ita quindi andremo a chiamare gli elementi partendo dall'elemento acqua ma di nuovo potete tranquillamente partire dagli elementi che preferite e molte tradizioni partono dal nord quindi facendo nord, est, sud, ovest e poi dopo centro in cui si chiamano le divinità in Practical Magic in un paio di settimane troverete proprio un video legato proprio alle chiamate come chiamare gli elementi dentro il cerchio come chiamare le divinità all'interno del cerchio quindi vedrete proprio un esempio di quella che è una chiamata degli elementi fatta da me da cui potete prendere spunto e fare le vostre volendo possiamo anche posizionare ai quattro angoli degli elementi specifici quindi posizionando dei testimoni degli elementi a seconda della tradizione gli elementi vengono posizionati a punti cardinali diversi ma per la terra potete posizionare del terriccio, del sale o anche dei cristalli per del fuoco potete tranquillamente posizionare una candela magari di colore rosso proprio a richiamare le energie del fuoco per l'acqua potete posizionare una coppa con dell'acqua magari acqua di fonte o acqua biovana, quanto più naturale possibile e per l'area potete posizionare o dell'incenso o delle piume queste varranno proprio da testimoni per gli elementi stessi quindi quando voi andrete a richiamarli potete proprio sentire e visualizzare le energie potete proprio sentire e anche visualizzare l'elemento stesso nella vostra mente presente quindi per la terra potrete visualizzare delle montagne per del fuoco, proprio il fuoco scoppiettante per l'acqua potete visualizzare il mare o anche semplicemente un fiume e per l'area potete visualizzare della brezza magari primaverile tutte queste sensazioni, tutta questa visualizzazione creativa vi darà proprio una mano in quella che è proprio la costruzione vera e propria del cerchio una volta che abbiamo chiamato gli elementi e che abbiamo chiamato le divinità procediamo con il vero e proprio rituale quindi a seconda di quello che noi dobbiamo andare a fare in quel preciso momento andremo a fare determinate cose piuttosto che un'altra questo ovviamente dipende sempre da quel cosa dobbiamo fare nelle prossime puntate di Practical Magic vi farò vedere anche come generalmente vengono eseguiti dei rituali in modo tale da rendervi anche conto di che cosa sto parlando generalmente durante un qualsiasi tipo di rituale nel momento in cui abbiamo fatto l'atto cerimoniale vero e proprio e quindi ci avviciniamo alla chiusura del cerchio al finale della nostra cerimonia ci sono delle offerte offerte che possono essere di varia natura possono essere semplicemente offerte energetiche quindi donare proprio la vostra energia come scambio nel momento in cui abbiamo fatto un atto magico possono essere dei semi, può essere del pane per esempio una cosa che mi piace tantissimo è fare dei biscotti che possono essere mangiati dagli animali quindi privi di zucchero e privi di cose che possono fare male e lasciarli proprio alla terra condividere un banchetto vero e proprio questo è un aspetto molto importante della pratica soprattutto wicca nella pratica valeniana in realtà non siamo tanto soliti fare queste cose perché noi in realtà giriamo con il nostro sacchettino delle offerte che di solito lasciamo indipendentemente dalle cerimonie e nel momento in cui poi abbiamo terminato abbiamo vissuto la nostra pratica rituale poi potete procedere con quello che è il rilascio del cerchio quindi rieseguire tutto quanto il rilascio degli elementi quindi ringraziare ogni singolo elemento per essere stato presente durante la nostra cerimonia stessa cosa per le divinità e poi ripulire il tutto la cosa molto importante in quanto neopagani in quanto persone che lavorano con la natura e celano la natura è lasciare sempre pulito quello che voi fate lasciando stare che in casa e la cosa molto importante è comunque riporre tutti quanti i vostri strumenti con rispetto nei luoghi da dove provengono ma se siamo all'aperto la cosa importante e fondamentale è lasciare tutto pulito non esiste che voi lasciate candele macchie di cera residui di plastica residui non biodegradabili nel posto in cui voi avete celebrato perché altrimenti vuol dire che voi non avete capito assolutamente niente della pratica pagana quindi mi raccomando cosa fondamentale anzi io di solito sono solita portarmi una busta di plastica in più perché man mano che vado nel luogo dove andrò a celebrare raccolgo l'immondizia che le altre persone hanno lasciato è una cosa molto importante portare rispetto nel luogo in dove andate a praticare domanda diritto se io ho aperto il cerchio mi sono ricordata che ho lasciato la cosa più importante per la cerimonia fuori dal cerchio che cosa faccio? devo chiudere e riaprire di nuovo? assolutamente no c'è la pratica dell'aprire una porta di cui io non sono particolarmente una grande fan non mi piace anche perché indipendentemente dalla questione energetica la cosa importante per me è rimanere attenta e tenere l'intenzione molto salda durante tutta la durata della cerimonia e uscire dal cerchio per me significherebbe perdere attenzione rispetto a quello che stavo facendo quindi è molto importante che voi vi assicurate di portare sempre tutto quanto nel cerchio quando praticare ma nel caso in cui voi siate costretti a dover lasciare il cerchio c'è questa che si chiama pratica della porta ovvero che potete utilizzare o la tame o le vostre mani per tracciare una vera e propria porta visualizzando proprio un'apertura e chiedendo alla dea e agli spiriti di essere con voi in questa apertura in questa tracciatura della porta in un lato del cerchio che voi preferite in modo tale che poi potete uscire dal cerchio e nel momento in cui rientrate richiudere la porta è di fondamentale importanza che questa parte energetica sia aperta e sia richiusa perché altrimenti tutta la questione protezione e la questione energie nella bolla svanisce completamente come faccio a capire che sono effettivamente riuscita ad aprire il cerchio? allora la prima cosa è una questione di sensazioni è una questione di sensazioni fisiche anche una cosa di cui io mi ricordo che all'inizio ero particolarmente insicura la cosa meravigliosa è che potevo sentire quasi la differenza a livello di calore una volta che ero nel cerchio che facevo il rituale che facevo la cerimonia che dovevo fare nel momento in cui andavo a rilasciare il cerchio e diciamo uscivo da quella che era la circonferenza del cerchio sentivo una vera e propria differenza di calore era proprio una differenza sia qualitativamente proprio energetica che proprio differenza di calore e quindi questo è un buon modo per vedere se siete riusciti o meno ad aprire il cerchio e poi lo sentite anche energeticamente una volta che avete finito di praticare vi sentite completamente morti soprattutto se fate determinati tipi di cerimonie tant'è che di solito quello che ho potuto constatare è che le persone si sentono particolarmente stanche e quindi hanno sonno o si sentono particolarmente affamate e quindi vogliono mangiare a me di solito capita la questione del sonno sono praticamente cotta dopo una cerimonia però dipende anche dal tipo di cerimonia io per esempio quando aprivo il cerchio mi sentivo cotta durante le cerimonie del tempio invece che siamo soprattutto all'aperto mi capita molto quando sono all'aperto piuttosto che quando sono al chiuso mi sento in realtà energizzata mi sento con l'adrenalina a mille che voglio fare di più e voglio fare ancora quindi questo è un aspetto molto molto interessante della pratica fatemi sapere voi come siete soliti fare se inserite più o meno passaggi sono stata molto generica in realtà perché dipende tantissimo dalle tradizioni questa è stata veramente una chiacchierata sull'apertura del cerchio in generale sicuramente poi vi consiglio di andarvi non soltanto a vedere la cerimonia di Ostara che pubblica qua sopra YouTube ma anche fare parte delle cerimonie del fuso perché potete anche rendervi conto un pochino di come gestisco lo spazio sacro rispetto a come ero solita fare con il cerchio però in Practical Magic ci sarà un video soltanto dedicato proprio a questo un piccolo annuncio prima di finire settimana prossima penso che me la prenderò di vacanza questo perché il fuso è particolarmente pieno di commissioni ultimamente sta andando benissimo e sono felicissima raggiungendo le 400 vendite su Etsy per non parlare di quelle che poi faccio su Facebook privatamente quindi sono veramente felicissima sto ricevendo veramente un supporto incredibile sto praticamente raggiungendo posti del mondo di cui non avevo neanche idea che ci stessero e di questo sono molto felice ma mi serve un pochino di tempo per registrare gli episodi di Practical Magic perché saranno particolarmente intensi quindi settimana prossima non vedrete nessun video se non quello della live mercoledì per la questione divinatoria quindi mercoledì alle 6.30 ci vedremo live qua sul canale però non vedrete nel video del libro delle ombre né alcun altro video semplicemente perché voglio dedicare proprio tempo per registrare gli episodi per il futuro quindi anche se non mi vedete live non mi vedete qua sul canale è perché sto comunque lavorando per voi in qualche maniera e quindi io non vedo l'ora veramente di farvi vedere come andrà sono veramente emozionata perché il trailer del progetto è andato benissimo e mi avete fatto tantissimi complimenti sono felicissima e non vedo veramente l'ora per il momento io vi ringrazio tantissimo fatemi sapere nei commenti che cosa pensate del progetto e soprattutto fatemi sapere che il rapporto avete con il cerchio e se siete soliti aprirlo come vi sentite a riguardo in sicurezza che come vi siete sentiti durante la prima volta che avete aperto il cerchio mi interessa veramente tanto perché io ero super super spaventatissima e ci vediamo alla prossima iscrivetevi mettete mi piace commentate fatemi sapere e condividete l'amore che ho per voi con il resto del mondo condividendo il video magari vi lascio un bacione vi ringrazio e ci vediamo alla prossima mua Grazie a tutti